Beni mobili ed immobili per 1.316.000 euro sono stati confiscati ad una famiglia di etnia rom dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Pescara. Si tratta di due fabbricati nel centro adriatico e di una unità nel comune di Civitella del Tronto e di sette autovetture. L'operazione è il risultato di un articolato lavoro investigativo della divisione anticrimine della Questura con la Polizia Tributaria della Finanza nell'ambito di misure di prevenzione del codice delle leggi antimafia per cinque persone della famiglia rom gravate da precedenti penali e segnalazioni di polizia per reati quali traffico di droga e truffa ad anziani è stata disposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pescara per tre anni. Siamo all'incirca 1.300.000 euro soprattutto beni immobili insomma. Come siete arrivati alla confisca di questi beni? L'analisi è partita dal curriculum criminale di determinati soggetti, vengono fatti gli accertamenti estesi anche al patrimonio grazie alla collaborazione dicevo con la Guardia di Finanza e la sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio di cui dispongono ci porta a avanzare delle proposte al competente tribunale che ha accolto appunto la nostra segnalazione. Dall'analisi dei flussi finanziari abbiamo visto che innanzitutto taluni disponevano di, hanno in passato di rilevanti rispettivi anche finanziarie sul che si considera che almeno in un caso sono transitati 145.000 euro sui conti correnti nonché un patrimonio immobiliare di oltre 1.300.000 euro. Partendo dall'analisi del contesto criminale viene determinata la pericolità sociale dei soggetti, consideri che in questo caso taluni soggetti sono macchiati anche di reati importanti e comunque reati insidiosi per la pericolità sociale, che si consideri che in tre l'unico casi sono stati perpetrati truffe nei confronti di persone anziane spacciandosi per esempio per funzionari dell'Inps o quant'altro. Poi una volta acclarata la pericolità sociale è possibile proporre le misure di prevenzione laddove sussista l'attualità della pericolità sociale e soprattutto una sproporzione tra i redditi dichiarati in questo caso praticamente zero e le disponibilità finanziarie e patrimoniali dei beni loro emossesso.